Talvolta i neofiti di Raspberry adducono scuse del tipo non è previsto il programma X che uso di solito e in quel caso i programmi sono spesso codici proprietari, magari Microsoft. Fortunatamente abbiamo un'ottima eccezione che eviterà a queste persone di trovare una scusa per non utilizzare il proprio Raspberry. Microsoft ha infatti portato il codice del suo editor di punta, il Visual Studio Code, su tutte le piattaforme più importanti, tra queste spicca Raspberry Pi. In questo video vedremo come installare il VS Code sul Pi e chiariremo alcuni dubbi posti dai puristi sui potenziali rischi di apertura dei repository di codici Raspberry verso Microsoft. Via! Visual Studio Code è distribuito ufficialmente da Microsoft per la piattaforma Raspberry Pi OS attraverso il sistema dei repository apt sia in una versione a 32-bit che in quella a 64-bit Per installarlo è sufficiente seguire l'update del sistema e digitare il codice sudo apt.update o sudo apt install code al termine dell'installazione troveremo il programma sotto il menu programmazione Visual Studio Code Il sistema è aggiornabile attraverso il comando sudo apt update code come tutti gli altri packages di Raspberry Pi Visual Studio Code Visual Studio Code supporta Raspberry Pi 3, 4 e 400 Sono quindi escluse le versioni più vecchie e la Raspberry Pi 0 Sebbene Microsoft garantisca che un gigabyte sia sufficiente per far girare il programma abbiamo notato che si ottengono le prestazioni migliori con almeno 4 gigabyte o più di memoria disponibile su scheda Esiste in giro una voce che afferma come l'accesso di Microsoft al repository apt comporti una non meglio definita criticità nella sicurezza delle informazioni Quanto c'è di vero? Innanzitutto abbiamo riscontrato che l'unica modifica apportata al gestore dei pacchetti consiste nell'aggiunta del repository packages microsoft.com slash repos slash code che a sua volta interviene esclusivamente su te packages code, code exploration e code insiders Il comando apt policy code mostra se il programma si è effettivamente installato ma null'altro Sottoposto ad analisi in un wireshark non abbiamo notato passaggi o richieste sotterranee di dati o informazioni sotto banco installare via scode richiedeva un qualche step non totalmente sotto standard linux tipo navigare sul sito microsoft, scaricare la versione opportuna cercare di capire se fosse meglio scegliere una .dev o una .rpm e così via Con la decisione di aggiungere il repository microsoft al sistema apt si è di fatto eseguito un passo avanti verso la compatibilità e la semplicità di installazione del codice Ciò che riscontriamo al massimo è una serie di ping al repository del codice prima dell'installazione solo per verificare la presenza del server per il download e questo sicuramente non provoca rischi di data leaking Ovviamente per chi vive con un sistema di sicurezza a livello paranoico tra l'utente linux non siamo importi ad esserlo esiste sempre la possibilità di installare l'editor con il codice su di una micro sd specifica per lo sviluppo da inserire per il lavoro e sfilare al termine della programmazione Oltretutto per tutte le altre attività possiamo affidarci ad ubuntu attualmente alla 20.4 per raspberry quindi sia a 32 che a 64 bit Ubuntu infatti non ha aggiunto repository di microsoft nella configurazione apt siamo tutti contenti e per oggi abbiamo terminato se il video vi è piaciuto non dimentichatevi di sottoscrivere il canale e di lasciare un like sul nostro blog troverete quotidianamente nuovi articoli relativi a raspberry e arduino Grazie a tutti